Ho inteso parlare con me stesso da solo, però nel momento in cui parli da solo è bisogno anche se pensi delle cose di regalarle a qualcuno, a un interlocutore, quelli sono i miei figli e per il resto chiunque ha voglia di confrontarsi col pensiero di un uomo di 58 anni che ha fatto la sua vita, insomma, e come tutti ha vissuto in mezzo alle cose che tutti noi viviamo quotidianamente, sport, tecnologia, politica, religione, famiglia, amore, sesso, viaggi, letteratura, sogni, pensieri, illusioni. Ecco, a proposito delle tematiche principali di questo libro, si parla di famiglia e di amore, come descrive il suo rapporto con i suoi figli? Meraviglioso, meraviglioso, cinque figli, cinque pezzi di me, ognuno diverso l'uno dall'altro, ai quali auguro di distinguere i sogni dalle illusioni crescendo. Ci dica anche un'altra cosa, in questo libro ci sono tracce di rimorsi o rimpianti o entrambe le cose? No, non ci sono né rimorsi né rimpianti, c'è la serenità di una vita fortunata, di una vita vissuta come tutti, attraverso cose belle, cose più spiacevoli, cose più difficili, con la fortuna di aver rintracciato un mestiere che mi permette di sollevarmi dalle difficoltà anche con un'economia che ti aiuta, questo sì. Ma se non avessi fatto il conduttore televisivo, cosa avrebbe fatto Paolo Bonolis nella vita di tutti i giorni? Beh, io stavo studiando all'università per fare la carriera diplomatica, mi sarebbe piaciuto quello, poi è capitata questa situazione, l'ho trovata congeniale a me e l'ho continuata, adesso sono 40 anni che lo faccio. Progetti futuri? Progetti futuri, spero che passi velocemente quest'inverno perché ho voglia di andare al mare.